Grazie all'associazione Mercurio ho potuto passare una mattina in una scuola media di Milano spiegando ai ragazzi qualche nozione base di biologia, quindi cos'è una cellula, come funziona e svolgendo delle attività pratiche di laboratorio molto semplici. Abbiamo svolto delle attività di estrazione del DNA, di osservazione di campioni istologici, quindi di campioni di tessuto al microscopio e degli esperimenti di elettroforesi. Eravamo divisi in piccoli gruppi, quindi i ragazzi si avvicendavano nelle varie attività a gruppi di sei. I ragazzi appunto mi hanno fatto una impressione splendida, davvero anche durante la presentazione, gli abbiamo fatto all'inizio una presentazione powerpoint, pensavamo sarebbero annoiati da morire, invece erano veramente attenti, attivi, interessati, facevano tantissime domande, come quasi non ne vedo neanche i seminari che facciamo qui tra adulti, quindi è stato veramente molto bello. Le insegnanti anche stimolavano molto la partecipazione dei ragazzi, li incoraggiavano a fare domande. Io mi sono in particolare occupata di mostrargli i tessuti al microscopio, gli ho fatto vedere dei campioni di midollo spinale, murino, quindi di topo, in particolare i tessuti derivati da un modello di sclerosi multipla, quindi ho potuto spiegargli che cos'è la sclerosi multipla, perché è importante lo studio di modelli animali che ne mimino la patologia, qual è lo scopo della ricerca che svolgiamo, quindi capire quali sono i meccanismi neurobiologici che portano allo sviluppo di questa malattia, se sono presenti determinate condizioni ambientali per esempio, e l'importanza dell'utilizzo di questi modelli per cercare delle nuove terapie. Loro appunto si sono veramente appassionati, hanno guardato con interesse campioni, mi hanno fatto un sacco di domande, erano veramente stupiti e questa è la cosa più bella. È stato veramente gratificante perché vedevo proprio in loro l'interesse di capire, di conoscere, di partecipare. Penso che alcuni si siano anche effettivamente appassionati agli argomenti che gli abbiamo proposto e probabilmente è possibile che intraprenderanno anche un percorso scientifico, io lo spero. È stata una prova veramente stimolante e decisamente divertente, io mi sono divertita molto.